ciao crodi di salvo bella gag era un ingresso dinamico non era una gag sei salvo? sono salvo sono salvo e oh di subito dove scrivi eh? perché? le nascoste? vabbè vado a salutare anche la tua città ma invece ti beccarei solo un salto tu perché sei un grande egoista egoista però si salva perché ti salvo ti salvo